Oconevito! Sporfi! Sporfi! È l'anniversario del D-Day. Devo trovarmi in Normandia. Sarei felice se ci andasse, ma il nostro dovere è avere cura di lei. Lei mi considera già morto e sepolto, signore. Cristo santo! Da dove salta fuori? Non restare l'incantato. Dammi una mano. Veterano scappa per rivedere i suoi commilitoni in Francia. Hashtag eroi del D-Day. Pubblico in delirio. È un miracolo che sia ancora con noi. Lei è un soldato coi fiocchi, Messiae Crawford. Sono proprio io. Ma è scaduto 17 anni fa, signore. C'è una data di scadenza per tutti noi. Ho 92 anni e tre quarti, quindi... L'ho superata da un po' la mia scadenza. Ce l'abbiamo nel sangue noi. Dare una mano ai soldati. I tre moschettieri. Tutti per uno, uno per tutti, eh? E questo è il problema di quelli come noi. Conviviamo con dei fantasmi. Ehi! Ti piace fare i bulli? Nessuno potrà dimenticare. Ma potremmo provare a perdonare. E come diavolo pensi di arrivarci in Normandia? Neanche la porta del bagno trovi più? Molto spiritoso. Musica 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 Grazie a tutti.